Per cinque che vanno, uno arriva. La pianificazione del Ministero dell'Interno, aggiornata ieri, segna un ulteriore impoverimento della pianta organica della Questura di Prato. Il saldo negativo è di quattro agenti. I movimenti, così si chiamano tecnicamente, pubblicati ieri, saranno realtà a settembre. Brutte notizie dunque. A fronte del rafforzamento promesso dal Governo a metà maggio in occasione della riunione del tavolo Prato, i fatti dicono che si faranno passi indietro. Fatti che sono quelli di ieri, perché la prossima settimana saranno resi noti altri movimenti e secondo voci di corridoio potrebbero essere addirittura 11 i poliziotti assegnati alla Questura di Via Migliore di Cino. Si tratterebbe di 11 allievi provenienti dal 192esimo corso. Un numero che, se confermato, porterebbe in attivo il saldo delle divise e rispetto alle notizie di ieri produrrebbe un ribaltamento della situazione. Ce lo auguriamo, è il commento del SIA, per il sindacato appartenenti polizia. Ci sembra un numero inverosimile perché lo storico delle aliquote non è mai stato di questa portata. È possibile però che il Ministero voglia rimediare con un invio massiccio di uomini alle carenze accumulate nel corso degli anni. Nel 1999, per fare un esempio, in Questura si contavano 320 persone, oggi 260. un salto indietro che diventa ancora più significativo se si pensa che negli anni la città è cresciuta, così come sono cresciute le problematiche.